Per il pianeta, due comandanti, i cui lavoratori devono rifornire lo stabilizzatore. Colleghiamo... Apprendiamo che una sconosciuta tecnologia nemica, la lava sale. Speriamo che le forze laggiù riestano. Speriamo che, ritirandosi, la lava abbia fatto affiorare dei cristalli. Con un po' di... Restano due minuti. L'aria qui in studio è talmente lessa che riesco a malapena respirare. Portare un cristallo allo stabilizzatore ha consentito di guadagnare tempo. I dati raccolti dal nostro sismologo Terry indicano una ripresa dell'attività sismica. Riceviamo notizia di un'altra eruzione. Riceviamo notizia del termine dell'eruzione. La corsa per... Il sismologo della UNM, Terry, stima quattro minuti. Il sismologo della UNM, Terry, stima quattro minuti. Ecco un nuovo terremoto. Resto. La lava sta tornando. Era pronta. Mutazione completata. Sembra che l'eruzione sia terminata. Ora vediamo. Le forze nemiche stanno per attaccare i lavoratori dei comandanti? Ancora quattro minuti prima della disastrosa fine di veridia. I comandanti... Mi dicono che lo stabilizzatore è al 25%. Il che significa... Al tuo alleato serve aiuto. Gli alleati sono scesi in battaglia. Segui i nostri guerrieri. Siamo uniti. Altra lava in arrivo. Non mi fido. Ammetti. Ho appena ricevuto un aggiornamento. I tuoi alleati hanno ingaggiato in battaglia. Rotazione completata. Gli alleati... Mi piace pensare ai cristalli che galleggiano nella lava. Terry... Al tuo alleato serve aiuto. I tuoi alleati hanno ingaggiato il nemico. Copri il campo di battaglia di Statelliti. Sono super utili. Oltre a essere bellissimi. Al tuo alleato serve aiuto. Qui Donny Vermilion. Lo stabilizzatore ha raggiunto il 50% di... Altra scossa. Altra eruzione lavica in arrivo. Donny Vermilion. Ecco la lava. Tenete d'occhio i passi fiatri. Ultime notizie. Una salamandra lavica soprannominata Magma Sal è stavata. La lava si è ritirata di nuovo. Lasciando dietro di sé. Non minaccia la tua colonna di evocazione. Le tue forze sono sottoporti hanno ingaggiato il nemico. Gli alleati sono scesi in battaglia. Combattiamo uniti. La battaglia era troppo dura per i miei guerrieri. La tua genia ha incontrato il nemico. Sto proteggendo le nostre forze. L'auto di acquariato è sotto assegno. Il nostro sismologo ritiene che la prossima eruzione potrebbe perforare il mantello. Si sta verificando una nuova eruzione. Sembra che la salamandra sia tornata in superficie. Sei comandante. Sembra che l'eruzione sia finita. Però... Quando la marea... Evoluzione riuscita. Stiamo ancora aspettando che i lavoratori raccolgano cristalli per portarlo. Siamo a quattro minuti dalla distruzione del pianeta. Rimanete sintonizzati. Gli alleati sono scelti in battaglia. Combattiamo uniti. Sentiamo ora il caratteristico rotto. Presto dovremmo assistere a un'altra eruzione. Si sta verificando un'altra eruzione ladica. La salamandra ladica è tornata e si sta dando da fare. Gli alleati del dominio è terminato. Ultime notizie. Gli alleati del dominio sterminano creature a rischio di esterno. L'eruzione sta per terminare, cari olo spettatori. Ma non cambia adesso. Al tuo alleato serve aiuto e con le tante. Attivo gli scuti di emergenza. La tua genia si è evoluta. Presto i lavoratori inizieranno a raccogliere i cristalli per portarli allo stabilizzatore. E noi? Le tue forze sono sotto attacco. Il sismologo della UNN, Terry, stima quattro minuti alla fine del pianeta. Il nemico ha ingacciato la genia. Gli alleati sono scesi in battaglia. Combattiamo uniti. I tuoi alleati hanno ingaggiato il mito. Mutazione. Gli alleati sono scesi in battaglia. Combattiamo uniti. La scossa sismica sconvolge la superficie di Meridia Prime. La lava. Le nostre fonti ci comunicano di un'altra eruzione. Datemila, sei su una lava. Contro ogni aspettativa, lo stabilizzatore è quasi carico. Le forze schierate riusciranno a farcela? Rimanete sintonizzati per scoprirlo. La tua genia ha incontrato il nemico. Così com'è giunta, la lava si ritira. Ora è il momento che i lavoratori raggiungano le formazioni di cristalli. Le forze sono scattate. È l'unico modo per conquistare la vittoria. I tuoi alleati hanno ingaggiato il mito. La tua genia ha incontrato il mito. La tua genia ha incontrato il nemico. Sto attivando gli scusi di emergenza. Un altro aumento dell'attività città sta per arrivare un'eruzione. che sia quella finale. Gli alleati del dominio hanno. Ma era. Ammirate la potenza dei nerazi.